E' ora il volley perché c'è una squadra che non perde mai, almeno fino adesso non l'ha mai fatto. 20 giornate nel campionato di A2 di volley femminile, 20 vittorie. Stiamo parlando delle ragazze del Cari Parma Sigrale. Il segreto vero è essere un gruppo molto competitivo, di alto livello, con 12 elementi che nell'allenamento si danno da fare e cercano di metterli in difficoltà. Una foto di squadra, una foto ufficiale per celebrare una squadra incredibilmente forte. Una squadra capace di vincere 20 partite su 20 giornate di campionato. Una squadra capace di conquistare 59 dei 60 punti a disposizione. E' il Cari Parma Sigrale, volley femminile, serie A2. Stanno dominando il campionato, vogliono diventare una squadra da record. Bravo, pulito di spalla, perfetto. Credo che il segreto di questa stagione e di questa squadra sia stato quello di pensare allenamento dopo allenamento e quindi partito dopo partita. Tanto lavoro, tanto lavoro perché comunque quello che facciamo in palestra si vede poi la domenica. Quindi siamo sempre in palestra, viviamo qui dentro ma comunque ci lavoriamo tanto tecnicamente. Anche qui questo sicuramente è una cosa che ci dà quella cosa in più. Un gruppo di ragazze meraviglioso che non si tira mai indietro, che sta lavorando con grandissima dedizione, grandissimo attaccamento sin dal primo giorno in cui siamo arrivati in palestra. Stiamo giocando molto bene perché riusciamo ad allenarci bene. Siamo una squadra comunque molto competitiva, anche in allenamento tra un sestetto e l'altro ci aiuta molto. Il campionato non è ancora vinto, nessuno si vuole scaramanticamente dichiarare già vittorioso. Però sicuramente questo è l'obiettivo nostro, cioè quello di provare a fare di questo campionato un'impresa. Cosa manca ancora? Continuiamo a vincere. Buon go, scuice. Spegnete per favore il telecamera, grazie.